Il controllo siciliano tra Catania e Palermo, oggi ne abbiamo parlato tanto collegati tutto il giorno da Catania. Penso che entrambi le parti hanno raggiunto un massimo di esperienza ma anche di maturità, quindi sicuramente sarà un derby bellissimo e la cosa più importante siamo noi i giocatori che dobbiamo dare questo esempio in campo. Per me è sempre detto che è un derby bellissimo, un derby in famiglia, un derby vissuto però con allegria come dovrebbero essere vissuti tutti i derby e spero, come ho detto all'andata, che venga fuori una gran partita e speriamo che il risultato sia positivo per noi perché a noi ci servono questi tre punti importanti per la classifica. Questa deve essere una festa della Sicilia perché ci sono stati tanti problemi dovuti a tre anni fa quel derby famoso, credo che l'abbiamo chiuso e hanno dimostrato sia i tifosi del Palermo che del Catania di essere delle persone civili e quindi credo che sia giusto dare questa possibilità. Sappiamo ora che abbiamo questa partita in casa che è una partita importantissima per il nostro futuro e penso che da lì possa nascere la salvezza del Catania. Sarebbe più bello se ci fosse il pubblico più che altro se fosse una festa più che altro perché comunque in campo andiamo noi, ci pensiamo noi a darcele dentro in senso buono a livello calcistico e poi fuori dagli sparti dovrebbe essere sempre una festa ma ovunque, non solo qua. E quindi i tifosi rosa-nero che tornano al Massimino.